Per quanto riguarda la gara di oggi, una gara comunque che siete riusciti a controllare già dall'inizio della gara, già due gol nel primo tempo e altri due nel secondo tempo, diciamo era questo che avevate previsto in settimana durante le sedute di allenamento? Sì, siamo molto soddisfatti intanto perché la squadra è stata mostrando grassi e tante disponibilità nei miei confronti, quindi in primi sono soddisfatto per quello e poi ci tenevo tanto all'atteggiamento della squadra oggi e quindi anche lì sono molto soddisfatto perché secondo me l'approccio è stato quello giusto, secondo me non era facile la partita perché avevamo visto Lanciano le altre partite quindi anche con l'Avezzano era riuscito a tenere per un lungo tratto della partita il risultato aperto, quindi non era facile, sono stati bravi i ragazzi a farla diventare forse un po' più semplice di quello che si è visto. Vorrei chiudere come dicevo prima con anche l'altro mister dell'intervista con questa domanda, prossima gara a Pescara contro la Delfino Flacco, una formazione giovane, comunque la formazione mister Bonatti molto aggressiva in fase offensiva, secondo lei qual è la chiave per andare a pungere la formazione pescarese? Io ancora non ho preparato la partita domenica prossima, quindi andremo a studiare, a vedere bene l'avversario, ci adegueremo in quanto alla strategia, ma sicuramente la nostra identità, la nostra idea di gioco rimarrà quella.